Ciao ragazze, benvenuto al solito appuntamento mensile dei preferiti del mese questa volta lo giro un po' prima per evitare di non riuscire poi a girarlo per via del Cosmoprof della fiera che sono impegnata a preparare le varie robe sempre in collaborazione con Federica, Derry Bruno qui su Youtube mando un bacio a Fede, vi lascio giù nell'info box il link al canale di Fede e al video in collaborazione con me prima di iniziare volevo far vedere cosa ho ricevuto settimana scorsa perché in tutti i video che ho girato mi sono scordata però merita davvero, sono troppo troppo contenta anche perché sono malata di cover e ho ricevuto dal sito Design My Cover che vi lascio giù nell'info box questa cover fighissima praticamente è la cover con la grafica del mio canale se riesco comunque secondo me ve la faccio vedere vedete all'interno porta diciamo il simbolino del sito Design My Cover si trova in svariate città e devo dire la verità è di una qualità assurda io ho comprato svariate tipologie di cover perché sono davvero malata cover in silicone, cover in plasticatura di tutti i tipi, con i brillantini ma la qualità di questa mi ha stupito perché sembra di plastica tipo gommata tipo satinata è particolarissima, vedete è tutta leopardata con il rosa e porta la scritta del mio canale monabagno88 e rossetti e blush di MAC non si legge molto bene il nome del mio canale però credo sia un discorso di immagine ovvero se me la facevano tipo laterale si sgranava tutto e non era ben definito come come insomma perché vedete comunque i rossettini i blush, il pennello si vedono molto molto bene è fatto davvero bene e poi ha cover per ogni tipologia di telefono anche i telefoni spiegati tipo il mio che è un S3 mini non è niente di eccezionale e niente sono rimasta contenta perché è fatta davvero in maniera perfetta mi piace anche il fatto della telecamera perché molte cover praticamente la telecamera viene coperta soprattutto quelle che si comprano in Cina io ne ho presa una sua Aliexpress a forma di scimmia però praticamente non la metto spesso perché non posso fare foto perché esce la cosa marrone perché la fotocamera diciamo non si vede neanche il flash mi copre il flash ad esempio oppure ci sono cover che coprono lo stereo e questo invece è fatto veramente benissimo è di una qualità molto molto buona io vi lascio giù nell'info box il loro sito e diciamo hanno prezzi che partono dai 10 euro per quanto ho visto fino al massimo di 30 euro ma fanno davvero di tutto ho visto anche le cover in legno che sono davvero molto molto carine quindi se vi interessa vi lascio giù nell'info box il link al sito di questa azienda e ringrazio l'azienda per la possibilità di aver creato la mia cover personalizzata con il nome del mio canale molto molto figa sta cosa inizio subito col far vedere i preferiti vi faccio vedere inizio con le matite perché ci sono tre matite preferite allora ci sono le due solite di Wicon della linea Long Lasting però raga purtroppo ve le appioppo sempre queste matite nel tempo ma io le uso cioè vedete questa qua la uso sempre 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 perché sta bene con tutto ed è la Long Lasting Eyeliner Gold Leaf 14 di Wicon ed ha una luminosità sta matita spettacolare cioè guardate è qualcosa di fenomenale poi questa qui che vi ho mostrato anche negli usati della settimana che è la Emerald Green la 04 sempre della stessa linea di quest'altra qui delle Long Lasting queste hanno un prezzo di 4,90 vedete che colore è stupendo cioè top raga ma poi hanno una durata particolarissima mi giuro e poi ho usato questa di Catrice la Smooky Eye Pencil nella colorazione 030 It's a Pleasure Tresour non so se la si trova ancora comunque un bellissimo marroncino marroncino top cioè marrone molto particolare con dei riflessi verdini dorati particolare davvero molto molto bella e l'ho utilizzata anche come base per la palettina della Catrice che vi ho mostrato negli usati della settimana oppure nei non mi ricordo che vi ho mostrato comunque di recente e praticamente in quella palettina c'è un ombretto dello stesso colore di questa matita quindi è il top cioè un abbinamento perfetto e ho usato questi qui preferiti insomma mi piacciono troppo questa qua porta anche il pennellino e si sfuma bene faccio vedere vi permette di fare una cosa bella precisa vedete molto molto bella e rilascia poi questa luminosità bella 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 poi sempre per quanto riguarda diciamo gli occhi ho ripreso ad utilizzare questa matita questa matita questa palettina di Y conoscerò sempre unina in mezzo ed è la fa parte di una linea limitata ma ogni volta che vado da Wicon c'è ed è la Luxury Revolution Eye Palette praticamente è una palettina nude e in particolar modo utilizzo questo marrone che mi fa impazzire ve lo faccio vedere vedete è un colore particolare diciamo sembra un colore cioccolato un colore cioccolato molto molto particolare ha una leggera satinatura con dei glitterini dorati molto molto bella anche questo rosa antico per dirvi è stupendo molto molto bello aspettate faccio uno sbozzino oppure è molto carino sono molto morbidi questi ombretti e molto scriventi devo dire la verità e l'ho utilizzata perché la teniamo lì accantonata ho detto basta cerchiamo di utilizzare qualche prodotto non facciamo muffire la roba insomma perché davvero l'ho comprata sì l'ho utilizzata nel periodo che l'avevo comprata io mi pulisco perché se no le matite di Wicon non vanno più via l'ho utilizzata diciamo il periodo che l'avevo comprata e poi come sempre ti passa la frenesia e la accantoni dentro la cassettiera matite di Wicon che non vanno via queste qua ragazzi sono un po' cacacazze nel senso pure a struccare se non avete un buono struccante raga buttate il sangue ve lo ripeterò sempre io per dirvi ieri sera che era sabato che io giro i video sempre la domenica ho usato salvezzine struccanti latte detergente e acqua di ruote per cercare di far andare via la matita di Wicon mamma mia però sono troppo bella e non mi interessa che devo stare tre ore a struccarmi poi cosa vi faccio vedere per quanto riguarda la base vi faccio vedere due prodottini allora scusate se mi giro sempre ma tengo i prodotti come sempre sparsi nel letto e mi dovete sempre scusare perché io noto che nel video c'è la sedia che vedete lì sta sempre un cesso cioè piena di panni buttati uno sopra l'altro e mi dovete scusare però l'ordine non fa parte diciamo non fa parte di me per quanto riguarda i trucchi mi avete scritto se è ordinatissima ma per quanto riguarda i panni potete vedere le mappaglie di panni sopra la sedia che veramente è un cesso comunque ho utilizzato come correttore questo qui della bourgeois che è l'happy light e questo qui fa anche un effetto illuminante vi faccio vedere come è scavato vedete l'ho utilizzato davvero tanto ma lo amo lo amo lo amo ha una coprenza altissima e poi vi fa un effetto luminoso sul viso stupendo e l'ho utilizzato anche per fare il contouring in crema anziché in polvere e raga ottimo straconsigliato bellissimo poi l'ho pagato 3 euro al banchetto magico ancora più soddisfatta insomma del mio acquisto poi vi faccio vedere un primer che ho preso ad utilizzare un primer viso che è lo smoothing and filling base base trucco levigante e riempitiva ed è un 10 ml di prodotto ed è della Glossip sempre quell'azienda diciamo che tempo fa mi mandò dei prodotti e devo dire la verità mi piace come primer l'ho utilizzato anche per truccare diciamo vedete sta quasi terminando delle persone e vi dico che il trucco gli è durato tutto il giorno sono rimaste molto soddisfatte le clienti non ho fatto diciamo corsi di trucco altro trucco quando mi capita insomma perché sanno che me la cavo che mi piace insomma come trucco quindi a volte ho delle richieste sono rimaste soddisfatte perché il trucco gli è durato la base gli è durata ed ho utilizzato sempre il primer di Glossip per sicurezza e niente lo sto utilizzando perché come potete vedere ce n'è poco e lo voglio terminare perché ho davvero tanti 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 primer scusate ma mi impappino da sola poi per quanto riguarda sempre i prodotti cremosi vi faccio vedere il pupavampo questo qui l'ombrettino che è il cento il cento il cento uno sì che è un bellissimo color champagne che ho utilizzato davvero tantissimo ma raga fa un effetto stupendo io purtroppo avendo le unghie non riesco a prendere guardate guardate qua spettacolare 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 che poi ho fatto il trucco di carnevale con questo con questo ombretto cioè guardate sbrilluccicavo da sola è wow è l'obbio è il top ragazzi io lo amo davvero lo amo ne ho anche un'altra colorazione ma questo è il mio ombretto diciamo preferito l'altro pure diciamo è un nude mi è andato tutto nelle unghie marocca nervi però diciamo lo utilizzo questo perché mi fa un effetto luminoso stupendo mi evidenzia anche il colore degli occhi non so come spiegarvi veramente mi fa fare una bella figura quindi è degno di nota cioè mo me lo levo perché sennò sto tre ore a toglierlo infatti quando ho fatto il trucco di carnevale non so se a qualcuno interessa sono stata tre ore a toglierlo perché davvero ha un'ottima ottima durata e questo qui l'ho presi con la promozione di pupa dei coupon e lo pagai solo 5 euro quindi un ottimo ottimo affare poi vi faccio vedere due rossetti il primo è quello che mi vedete su ed è io ragazzo in fissa con i rossetti rosa in questo periodo quindi vi dovrete subire sempre diciamo gli stessi 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 prodotti ed è lo 09 della collection professional la linea matt che una ragazza mi ha detto che assomiglia anche al san germen penso san germen di mac e niente mi è piaciuta sta cosa ho detto wow è un dupe di un rossetto mac sono rimasta contenta insomma è bello mi piace troppo troppo bello è una durata pazzesca e un altro che vi ho fatto vedere guardate qua c'è brilluccico da tutte le parti che vi ho sempre fatto vedere in un altro video è il rossetto della catrice che è diciamo del colore dell'anno ovvero il Radiance Orchid che è questo viola rosa molto molto particolare tipo ciclamino non saprete scrivere il colore ed è proprio il colore Radiance Orchid quello che diciamo ne ha parlato Clio in ogni luogo e sto soddisfatta insomma di sto rossetto poi è matto lo sto adorando lo utilizzo sempre si può dire quasi sempre e mi fa fare anche belle belle figure un sacco di complimenti non avete idea scusate se io mi giro ma mi devo pulizzare e niente sono davvero due ottimi prodotti e hanno un'ottima durata sono due prodotti low cost ci tengo a specificare questo perché il rossetto della collection professional costa un 4 euro e penso anche quello lì della catrice perché vi ripeto se mi vedete prodotti catrice o perché diciamo li ho acquistati io anche se l'unico acquisto che ho fatto è tramite la ragazza che vive in sermania con Mara ma poi il resto mi hanno regalato tutti quella pazza e niente ringrazio sempre Mara perché mi permette di provare davvero dei prodotti speciali veramente belli poi come ultimi prodotti vi faccio vedere il mascara che sto utilizzando tanto infatti mi sta quasi abbandonando ed è Leishmania Reloaded di Essence ed è davvero bellissimo io lo utilizzo per tutto come top coat per tutti i tipi di mascara metto che ne so mascara scrouse eccetera eccetera e poi ci vado a mettere questo perché mi fa un bellissimo effetto mi distriga tutte le cia me le volumizza me le allunga insomma mi piace moltissimo e quindi questo mascara qui nei preferiti che ormai l'avete visto anche in diversi preferiti la verità e poi tra i preferiti questo pennello dei cinesi che ho pagato 2 euro no no io non ho pagato non ho pagato papone che mi settimane fa siamo andati dai cinesi e mio padre e mi ha preso la io guardo là sopra perché tengo la collezione di fronte mi ha preso il contenitore di plexiglass che vi ho fatto vedere nella collezione make up che se qualcuno di voi se l'è persa vi linko giù nell'info box il video e questo pennello che ho pagato tipo 2 euro e qualcosa ma è davvero buono io lo utilizzo per applicarci la cipria è morbido è bello 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 mi ci trovo davvero molto bene ottimo prodotto non ha marca non vi so dire però davvero buono per 2 euro e qualcosa se lo trovate non ha marca è tipo un powder brush di elf lo dovete assolutamente comprare insomma e niente io vi mando un bacione e non ci fate caso ogni tanto i miei scleri e ci vediamo prestissimo come sempre nel prossimo video ciao ragazze ciao